Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi dei fumetti secondo me ideali da leggere durante il periodo delle feste, natalizio, in inverno ma che potrebbero essere anche delle ottime idee regalo Una storia dolcissima che secondo me è nata per essere regalata è Soppy di Filippa Rice Questa è la mia edizione inglese ma è uscita in Italia per edizioni BD e se non sbaglio ha un costo di circa 10€ Comunque troverete tutti i fumetti che vi citerò oggi qua sotto in descrizione Soppy è una storia d'amore dolcissima che mette in risalto quanto sia importante in una storia la quotidianità come il vero amore sia fatto di tanti piccoli gesti quotidiani e non di gesti eclatanti particolarmente romantici È una storia quindi tenerissima da regalare a una persona a cui volete particolarmente bene non necessariamente vostro fidanzato o fidanzata È una storia in cui tantissimi si possono rivedere proprio perché parte da spunti di vita quotidiana come andare a prendere i sushi insieme, rifare il letto, stare a casa a guardare la tv I disegni poi sono carinissimi, le linee sono molto morbide, i disegni abbastanza semplici e stilizzati e ho apprezzato tanto anche la scelta cromatica perché oltre al bianco e nero emerge tantissimo il rosso che va a rappresentare questo sentimento molto importante e forte che collega i due protagonisti della storia È un fumetto fatto principalmente di immagini, ci sono pochi dialoghi però l'ho trovato comunque molto espressivo, molto comunicativo mi è piaciuto veramente tanto e penso che sia una lettura da fare sotto le coperte, davanti al camino, sotto l'albero da soli o insieme alla persona a cui si vuole bene È un fumetto che scalda veramente tanto il cuore e che a me personalmente fa venire subito in mente qualcosa di bello, di felice mi mette proprio allegria, questo fumetto penso che sia un'ottima idea regalo sia per voi stessi perché è una lettura carina che vi tirerà sicuramente sul morale se siete in un periodo un po' difficile sia una persona a cui volete particolarmente bene Una storia delicatissima che secondo me è super azzeccata con questo periodo dell'anno è l'Uomo Montagna di Gautier e Fleche scusate io non so il francese quindi perdonate la mia pronuncia orribile edito da Tournoy nella collana Tipi Dondi al prezzo di 14,90€ questo secondo me è un fumetto universale che va bene sia per i giovanissimi che per i nonni è una sorta di favola moderna e i disegni secondo me richiamano tantissimo quel mondo i protagonisti di questa storia sono un nonno e suo nipote il nonno è ormai giunto alla fine del suo cammino e pronto per l'ultimo viaggio e affida un compito molto importante al nipote che affronterà per la prima volta un viaggio da solo è una storia molto delicata che parla un po' della riscoperta delle proprie origini, le proprie radici la storia è veramente molto bella in pochissime pagine gli autori sono stati in grado di raccontare una storia che sottolinea l'importanza del proprio passato, delle proprie origini ma anche della memoria si parla anche dell'importanza dell'affrontare la vita nelle cose belle ma soprattutto anche in quelle brutte come è capita poi al nipote che parte per un'avventura misteriosa ricca di pericoli i disegni personalmente mi piacciono tantissimo lo stile di questa autrice è molto particolare e delicato inoltre i colori sono meravigliosi, questi colori pastello li trovo veramente molto attinenti al tipo di storia che si va a narrare è una storia breve che conta 42 pagine ma che mi farà emozionare tantissimo un altro fumetto che mi ricorda tantissimo il Natale, l'inverno soprattutto per le sue ambientazioni è Tobico di Maurizia Rubino Edito da Bao Publishing al prezzo di 18€, questa storia è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui l'umanità si è praticamente estinta a causa di malattie e guerre sono rimaste solamente due fazioni che si danno continuamente guerra ovvero quella dei corvi e degli orsi Tobico è una ragazzina che fa parte della fazione dei corvi che un giorno incontra Po, un orsetto e da lì nascerà una fortissima amicizia i disegni secondo me sono il punto forte di questa storia sono semplicemente meravigliosi e anche i colori che vengono utilizzati ovvero il nero, il blu e il rosa l'ho trovata una scelta molto particolare e ben riuscita per questo tipo di storia i protagonisti poi sono rappresentati in maniera super carina e coccolosa con queste linee molto morbide quindi è impossibile non dire che carini è un fumetto che gioca tanto sui contrasti perché se i personaggi sono realizzati in maniera un po' tenera e coccolosa spesso ci sono delle scene abbastanza violente e forti che vanno proprio in contrasto con questa atmosfera più carina è una storia che parla di amicizia ma anche di diversità perché i nostri protagonisti non solo appartengono a due fazioni che sono in guerra fra di loro ma una è una bambina e l'altra è un orso la storia è narrata principalmente attraverso le immagini non ci sono tantissimi dialoghi quindi tutto ridotto all'essenziale nonostante questo penso che la storia si capisca davvero tantissimo e che i disegni spesso e volentieri siano più comunicativi delle parole stesse ci sono tante scene nella foresta, sulla neve quindi richiama tantissimo secondo me questo periodo dell'anno se vi piacciono i fumetti belli da vedere, da sfogliare ogni tanto questo è sicuramente il fumetto che fa per voi Natale per me non è semplicemente freddo, neve e quant'altro ma è soprattutto famiglia e per questo non posso che consigliarvi la generazione di Flavia Biondi edito da Baopublishing al prezzo di 15 euro è un fumetto che ho letto recentemente che mi è entrato subito nel cuore il protagonista Matteo è un ragazzo che dopo aver vissuto per un periodo a Milano torna nel suo paese natale in seguito a una delusione amorosa va dalla nonna e li troverà anche le zie e la cugina che si sono tutte riunite a casa della nonna per problemi economici come dicevo un fumetto che parla tantissimo di famiglia perché in questa occasione Matteo avrà l'opportunità di riscoprire la sua famiglia di vedere delle dinamiche che prima non comprendeva o a cui non aveva fatto particolarmente caso e riscoprirà un po' quelli che sono le cose veramente importanti nella sua vita oltre a questo c'è un confronto generazionale molto simpatico secondo me vedere un ragazzo giovane come si comporta appunto con le zie, con la nonna e poi diciamocelo, le storie con la nonna sono le migliori ci sono quindi tanti momenti di raccolta un po' buffi ma anche dei momenti invece di vero e proprio scontro a partire dal rapporto un po' burrascoso che ha Matteo con il padre ma anche semplicemente la reazione alla sua sessualità nella sua famiglia come reagiscono le varie persone di fronte al fatto che è innamorato di un uomo è un filmetto secondo me molto emozionante i disegni di Flavia Biondi mi piacciono tantissimo perché ha uno stile molto pulito e lineare e i personaggi sono caratterizzati da questi puntini in faccia che potrebbero essere lentiggini, macchie della pelle a me ricordano i pori lo so che può essere una cosa un po' strana però mi fanno sorridere perché sono molto caratteristici i suoi personaggi poi mi piacciono sempre un sacco perché sono veramente tridimensionali hanno spessore all'interno della storia e sono veramente molto comunicativi, molto espressivi non posso fare a meno che consigliarvi questo fumetto veramente dal profondo del mio cuore leggetelo un manga che ci tengo particolarmente a consigliarvi è A Silent Voice di Yoshitoki Oima edito in Italia dalla Star Comics al prezzo di 4,90€ è una serie composta da 7 volumi questo fumetto in realtà non c'entra tanto con il Natale o l'inverno però è una storia secondo me importantissima perché parla infatti di bullismo, disabilità ma anche amicizia è in grado di toccare queste tematiche molto importanti spesso in maniera forte e diretta però è in grado allo stesso tempo di far riflettere tantissimo la storia parla di due ragazzi lei si è appena trasferita in una nuova scuola ed è sorda quindi fa fatica inizialmente ad inserirsi nella classe anche se tutti si dimostrano da subito super gentili lui invece ha un'attrazione un po' strana nei confronti di questa ragazza perché è un bambino veramente molto annoiato da tutto ciò che lo circonda e vede questa bambina come una valvola di sfogo come qualcosa che può rendere più interessante e dare un significato soprattutto alla sua vita c'è poi un'inversione di ruoli perché sarà proprio Shoya il ragazzo che inizialmente prende in giro prende di mira questa ragazza a diventare vittima di bullismo dell'intera classe il bullo diventa quindi vittima seguiamo il suo percorso di crescita come lui vive questa situazione quando si rende conto del male che ha fatto e come cercherà di farsi perdonare in un certo modo e di risolvere la questione con Nishimiya è un manga secondo me potentissimo e non solo parla di tematiche importanti ma mi è piaciuto tanto il modo in cui vengono affrontate queste penso che sia una lettura importantissima assolutamente da avere se vi piacciono i fumetti inoltre il motivo principale per cui voglio consigliarvelo in questo video è che in occasione dell'uscita in Italia del film d'animazione tratto appunto da questa storia è uscito un cofanetto che racchiude tutti i sette volumi quindi oltre a costar meno c'è anche un cofanetto che può essere un'idea regalo secondo me bellissima i consigli però non sono finiti qua perché questo video è in collaborazione con Rita Books and Dreams e Tara Rabundide spero che si pronunci così comunque vi consiglio di tenere d'occhio il blog di Carla e il canale di Rita perché nei prossimi giorni pubblicheranno anche loro qualcosa a tema natalizio che riguarda i fumetti spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao